Allora ti metto davanti a un'alternativa, o proponi a questo pubblico una delle primissime cose che facevi, la creazione di Dio? Ma non me la ricordo, ma figurati, ma che facevo Dio? Un altro pattinaggio artistico sul ghiaccio. No però in questo caso raccontavi che Dio aveva creato e poi aveva diviso... La luce dalle tenebre, la terra dalle acque, il sale grosso dal sale fino, un lavoro. Lui si innamorò del pezzo, mi mandò sul palco, il pubblico, chi è questo pazzo? Continua a dire che non aveva successo, non è vero. Perché era questo, nel senso che c'era questo gap, poi l'abbiamo riuscito a risolvere, però tu, mi fa molto piacere, apprezzavi delle cose del mio lavoro che erano assolutamente non solubili. Cioè se tu adesso sai che vai a vedere Alessandro Fullin, ti tieni così di... Ma oddio, cosa farà? Cosa farà? No? Sei già preparato alla follia totale di questo poveretto. Ma se tu tra un comico e l'altro, dei bravissimi comici con dei pezzi rodatissimi, arriva uno che ti dice, sale, ma cosa sta dicendo? Io così, con i capelli bianchi, col triangolo, dici, ma chi è questo? No? L'alternativa è che io ho recuperato, grazie a Manuela Dogliotti. La pericolosissima, la temusissima. Una cosa che tu hai scritto per il suo matrimonio. Oh Dio! Magari se vuoi leggere... Vabbè, questa te la leggo, vista che è scritta. Allora, sì, sono stato al matrimonio di questa cara amica che lavora qui. Che ha il merito di organizzare concretamente tutte queste interviste. Va bene, e mi ha detto, ah ma dai, dico due parole, non ti dico la faccia del prete. C'ero, me lo ricordo. Io mi ricorderò sempre lui. Mi sono chiesto, in questi ultimi anni, quale sia il metodo migliore per arrivare su questo pianeta alla felicità. Come molti, ho tentato di raggiungerla attraverso il Pilates, bellando il piquet piquet a Rio de Janeiro, o guardando i tramonti con gli occhiali a lenti differenti che mi avevano regalato in un cinema in 3D. Per alcuni istanti, lo ammetto, ho provato piacere, ma il piacere non è la felicità. Come ben capì la contessa Ornosca, quando salutò il decimo battaglione Granatieri, nel quale aveva trovato non meno di dodici amanti. La felicità, ho compreso solo dopo, si prova solo se si è in due. Questo spiega il fascino delle biciclette a tandem, dei letti a castello, delle gemelle di Shining. Ed è così dei tempi più remoti. Noè, infatti, incoraggiò gli animali a salire in coppia sull'arca e li avrebbe anche portati alla salvezza. Con un sorriso vide sfilare la giraffa col suo fidanzato, un leprotto con la sua signora, due fagiani innamorati perdutamente l'uno dell'altro e dopo di loro ogni sorta di creature ben abbinate. Pochi sanno però che Noè non se la sentì di lasciare a terra anche una signora con un grande cappello rosa e un grosso gorilla che erano rimasti ultimi lì sul molo, drammaticamente spaesati. I due salivano sull'arca un po' perplessi, ma durante il primo ricevimento che venne dato sulla nave, dopo aver ballato assieme un tango, la signora affermò che si poteva affrontare una dieta a base di banane e il gorilla ammise che saltare da un albero all'altro con un grande cappello rosa non è molto pratico, ma indubbiamente chic. Il matrimonio è il ricordo di quell'arca. Oggi salgono a bordo un uomo e una donna. La combinazione biologica forse meno ragionevole. Ma siamo certi che li attende la felicità, perché la felicità è come Noè. Sa chiudere un occhio al momento opportuno. Grazie! 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 Grazie!